Per combattere l'inquinamento atmosferico, così come fanno tutte le altre città, noi abbiamo rivisto gli orari di limitazione al traffico e li abbiamo limitati nel tempo dal 1 ottobre al 31 marzo. Quindi da partire dalla prossima settimana, quindi da aprile a tutto settembre, non ci saranno limitazioni di traffico durante la settimana e invece il numero delle domeniche ecologiche passerà da 1 a 2. Quindi dal prossimo mese di giugno avremo due domeniche ecologiche, la prima e la terza, quindi primo giugno e 15 giugno e poi a seguire nei mesi fino a settembre. Quindi la novità è questa per dare un messaggio chiaro ai napoletani, dal mese di aprile al mese di settembre non ci sono limitazioni al traffico cittadino durante la settimana, dal mese di ottobre al mese di marzo le limitazioni saranno il lunedì, il mercoledì, il venerdì, non più dalle 7.30 ma per venire in conto all'esigenza di coloro che non hanno la possibilità di un'auto nuova e che devono accompagnare i figli a scuola, devono andarle a riprendere o coloro che devono entrare e uscire per lavoro, quindi la limitazione da ottobre ad aprile al 31 marzo sarà dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Queste sono le novità più importanti. Poi ci sono altre iniziative che noi chiediamo anche alle municipalità di individuare delle aree in ogni municipalità dove poter pedonalizzare per far riappropriare i cittadini delle proprie strade, delle proprie piazze. Chiaramente questo appello che noi facciamo ai cittadini di Napoli è quello comunque di utilizzare il meno possibile la macchina, utilizzarlo in modo collettivo. Queste sono delle buone abitudini che noi vorremmo far crescere fra i cittadini di Napoli. E gli invito ai napoletani invece a partecipare alle domeniche ecologiche a viverle come una grande opportunità. dalle 9.30 alle 13 della prima e la terza domenica di ogni mese primaverina e estiva di vivere la città a piedi con le bici, insomma senza volutizia dell'auto.